C'ho una pelle d'oca C'ho una pelle d'oca No, lo conosco quella silhouette Quindi alla fine ce l'hai fatta La fine del tuo viaggio è a portata di mano In pochi momenti incontrerai il re, ok? Quindi non è Sansa il re, ok? Insieme Determinerai il futuro di questo mondo E allora, adesso Sarai giudicato Sarai giudicato per ogni tua azione Sarai giudicato per ogni esperienza Che hai guadagnato Cos'è l'esperienza? È un acronimo Cosa? Cosa? Punti di esecuzione Un modo per quantificare il dolore Che hai infitto agli altri Quando uccidi qualcuno I tuoi punti di esecuzione Aumentano E quando hai abbastanza punti di esecuzione Il tuo amore Aumenta Amore anche È un acronimo Sta per livello di violenza Scusate ma non sto leggendo i vostri commenti Perché sono troppo occupato A leggere Un modo di misurare La capacità di qualcuno Di far del male Avrei qualcosa da ridire Perché non mi era Ok Non mi era stato detto questo Non mi era stato detto Toriel Perché non me l'hai detto Toriel Perché non me l'hai detto Toriel Più uccidi Più facilmente Diventa Più diventa facile Distanziarti Non ho capito in che senso Tipo distanziarti dai mostri Più di distanzi Meno ti farai del male Perché guadagno degli HP Chiaramente In termini di videogiochi E più facilmente Potrai riuscire a far del male agli altri Non mi voleva proteggere Se mi voleva proteggere Mi avrebbe parlato Prima di farsi accoppare Adesso capisci È tempo che inizi il tuo giudizio Guarda dentro di te Hai davvero fatto la cosa giusta E considerando ciò che hai fatto Cosa farai adesso Prenditi un momento per pensarci Non voleva farti conoscere il male del mondo In verità Davvero non importa Cosa hai detto Ciò che è importante È che tu sia stato onesto Con te stesso Quello che succederà adesso Lo lasciamo a te Oh mio Dio Quindi Ma scusate Posso andare a salvare Vero? O no? La stanza del trono Ok Ok c'è il salvataggio Se io però vado di qua Che c'è? No Non sto capendo Dove devo andare? Raga per favore Ditemelo Perché non voglio Finire nella parte Nella stanza sbagliata Devo andare avanti O indietro? Cioè Devo andare avanti O giù? Dai Ditemi questo Perché Dolorose Giù Prima giù O alla stanza del trono Meccetevi d'accordo Prima vado giù Ok Andiamo giù Oddio Sono tutti quelli Che ho ucciso È una bara C'è un nome Scritto sopra Ilaria Ah è vuota Meno male Oddio E cos'è? Tutte le... Perché non sono morto Nemmeno una volta? Come faccio a vedere le altre? Non posso Ah oddio Sì ho capito Grazie Giusto I degli altri sei bambini Ok Avete ragione Grazie Non c'era arrivato subito Quindi già loro Avevano Cioè Cioè Già Mi aveva Mi aveva fatto la bara Sto figlio di puttana Di re Asdor Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.